Buongiorno e bentrovati in redazione. Tragedia a San Gennaro Vesoviano in provincia di Napoli. Un padre ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone di una palazzina per poi tentare il suicidio. La bimba è morta sul colpo e lui, 35 anni, è ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. L'uomo è intubato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda, indagano i garabinieri. Per saperne di più vi invito a visitare il sito www.lanotline.it Vi ricordo la meglia di redazione, redazione.lanotte.gmail.com Per il momento è tutto, vi aspetto per l'appuntamento delle venti. Mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube. Vi auguro buon proseguimento. Grazie.